benvenuto in questo video tutorial dove ti mostro come estendere il disco del tuo vps windows una volta entrato in rdp nella barra di ricerca cerca disco a questo punto clicca su crea e formatta le partizioni del disco rigido seleziona col tasto destro il c due punti e clicca su estendi a questo punto clicca su avanti avanti fine ecco fatto il tuo disco è ora esteso